eccoci tornati a game hover com'è? grande potente ozze? mister che cosa giochiamo? il labirinto il labirinto player mains proviamo play game player mains new game new game ok dobbiamo muoverci con queste allora aspetta fammi guardare un poco si è trovato facile questo è il primo livello anzi livello base base space e continue dalla a a a z ok z e che cacchio allora a hai capisciuto? si io ho capisciuto tutto aspetta qua qua allora vediamo un po' vediamo a dobbiamo andare lì e facciamo una cosa così aspetta ok dobbiamo andare lì poi ci facciamo arrivare lì no dobbiamo arrivare qua è un casino no vediamo ma cosa dobbiamo fare? ma ci sono diversi mondi no 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 ma se sapessimo dove andare oh ecco c'è nessun livello che ne pensi di tutto il gioco adio giochetto ciao ciao